tgm r5 gg l mp5 della gg già la quarta o la quinta che prendo nelle mani da customizzare devo dire che è una base secondo me veramente veramente ottima ottima perché oltre che essere veramente molto solida anche come componentistiche interne già delle buonissime componentistiche interne per poter effettuare un buon custom soprattutto se si accontenta e io personalmente consiglio i 25 pallini al secondo visto che abbiamo e montiamo già un motore ifrit 25k con i suoi ingranaggi e una batteria 11 1 raggiungiamo i 25 pallini senza alcun problema in questo caso alimentato da una 11 1 per 1200 20 cd scarica ottima reattività e un buon ratio di fuoco perché 25 vb è veramente secondo me il ratio perfetto comunque detto questo interno come sempre pistone retro arms con la sua testa retro arms in pom cilindro testa cilindro fps spingi pallino di serie G&G che esce già in Ergal con i suoi o-ring di tenuta canna originale perché abbiamo una buonissima canna in ottone originale della G&G e cosa rimane rimane solo da provarlo stiamo per il tiro beh direi fantastico ecco forse la nota dolente di questo tipo di repliche è appunto la regolazione dell'op up perché è comandata da questa astina che dobbiamo andare a tirare per poterlo regolare ma vabbè con un po di pratica poi questo si fa tutto ringrazio l'amico Matteo degli Eterna Salt di Giulia Nova saluto anche Stefano il loro presidente grazie ragazzi di aver scelto il lab ATJ e noi come sempre ci vediamo al prossimo custom ciao